Sono 2.449 i nuovi positivi al coronavirus in Campania. Il dato emerge dal bollettino dell'unità di crisi che ha reso noti i risultati dei 22.326 tamponi esaminati. 1.557 i guariti del giorno. Sono cominciate ieri intanto le vaccinazioni presso il Teatro Augusteo di Salerno. L'Asla ha comunicato che le procedure per la vaccinazione dei 50 over 80 convocati si sono svolte in maniera regolare senza alcuna problematica. Una buona notizia alla luce dell'annunciata vaccinazione di massa. Questo punto vaccinale dedicato alla popolazione è sorto e molto probabilmente aggiorni anche gli altri tre punti che sono stati individuati dalla nostra azienda sanitaria. proprio per dare una mano all'azienda universitaria per dare, se mi consentite, un'accelerata a queste vaccinazioni in modo da cercare di rebellare quanto prima questa pandemia. Quando entreremo a pieno regime la nostra intenzione è di arrivare a 400 somministrazioni giornaliere.